Nel suo intervento oggi ha fornito alcuni dati rispetto agli assetti cripto. Sembrano dati apparentemente insignificanti, ma in realtà sono delle spie che danno comunque dei segnali importanti in termini di prevenzione. Quali sono gli aspetti che attenzionate di più? Sì, oggi purtroppo dobbiamo confrontarci con il crimine economico-finanziario che si svolge sul web. Quindi sono in costante aumento le truffe che avvengono non più con la moneta tradizionale, ma soprattutto con queste criptovalute che sono caratterizzate dall'essere anonime o pseudo-anonime e soprattutto volatili. Quindi come nucleo speciale frodi tecnologiche e con l'altra anima della tutela privacy, noi ci occupiamo sostanzialmente di un costante monitoraggio della rete web per cercare tutti quegli illeciti economico-finanziari o comunque anche penali e amministrativi che si svolgono attraverso la rete. Il riferimento in particolare ai black market che popolano il dark web dove si vende di tutto. Naturalmente sono attività illecite e oggetti che vengono compravenduti esclusivamente con il ricorso alle criptovalute. Ma è importante anche il monitoraggio delle criptovalute in sé per sé perché oggi partiamo da un assunto diverso. Col metodo Falcone Borsellino del follow the money noi avevamo comunque delle somme riconducibili a una persona che poi si perdevano nei rivoli dei vari conti correnti o di altre strade tortuose, ma comunque partivamo da una moneta reale, esistente. Oggi invece partiamo da un flusso di denaro che è virtuale, quindi è un flusso di denaro che non è tangibile, che soprattutto è anonimo. Quindi la nostra capacità deve essere quella di de-anonimizzare chi ci sta dietro questo flusso di criptovalute perché si parte da un registro pubblico, quindi da una stringa a cui bisogna associare un nome. Naturalmente la fase successiva, quella più difficile, non è solo quella di individuazione, ma anche di sottoporre nel caso di illeciti economico-finanziari quella somma a sequestro, ovvero di ablarla, di toglierla dalla disponibilità di quel soggetto. Anche qui naturalmente le tecniche investigative sono oggi totalmente diverse rispetto al passato perché dobbiamo confrontarci con un tipo di sequestro che io definirei virtuale, ma non nel senso che non esiste. Cioè dobbiamo creare un paper wallet, dobbiamo capire poi quel paper wallet che contiene delle criptovalute, che fine deve fare e che in sintesi cercare di convertire in moneta fiat. Insomma ci sono anche aspetti che impattano il piano giuridico. Grazie. E rispetto all'iniziativa di oggi che opinione si è fatto? Allora io ho assunto il comando del nucleo la scorsa estate, quindi quando mi è arrivato l'invito non ho avuto nessun dubbio, nessuna situazione a partecipare a questo evento che ripeto sin dalla presentazione mi è sembrato un evento di altissimo livello, ma oggi ne ho avuto conferma non solo per i temi trattati ma anche per il parterre, per i soggetti con ruoli istituzionali di rilievo che hanno aderito all'iniziativa. Quindi benvengano iniziative del genere perché dobbiamo capire che questo è un tema, oggi si è parlato anche di intelligenza artificiale, che non è un tema che deve impattare solo sulle istituzioni, ma è un tema che deve impattare anche per il normale, il comune cittadino. Perché per esempio se parliamo di criptovalute probabilmente la scarsa conoscenza delle regole che appunto gravitano attorno ai criptoasset probabilmente può portare l'ignaro cittadino a commettere errori.